Terry Gilliam che cerca di spiegare a Mirka Viola come diventare la nuova stella del cinema mondiale. Cosa le insegni? Come diventare una famosa attrice di Hollywood. Sì, è molto facile. Molto facile. Sì, ho detto che bisogna imparare a dormire con gli uomini più vecchi. Ma insomma lei è un maestro, non può dire queste cose. Ah sì, è andato molto bene finché l'ho interrotto. Meno male, ti ho salvato Mirka. No, è molto interessante parlare con lui perché lo conoscete tutti, è uno straordinario regista e quindi per me è una gioia immensa. Ecco, mi tocca dare le spalle ai cameramen. Beh, devo dire un'esperienza straordinaria per te è quella di incontrare i grandi maestri del cinema come Terry Gilliam, ma oggi anche Oliver Stone, Stephen Frears. Insomma, mi sembra che questo bilancio per i primi giorni di Ischia non è male, no? No, è straordinario. Cioè per me è la prima volta trovarmi appunto ad un festival e poter parlare direttamente con questi mostri sacri del cinema. Veramente perché sono forse i migliori del momento. Quindi un'esperienza unica, irrepetibile. Terry Gilliam lo è un bel po' i grandi del cinema, oramai già nella leggenda grazie a film che lo hanno consacrato, un vero e proprio maestro, Brasil, il barone di Munchausen. Gilliam, perché le piace così tanto Ischia? Lei è diventato ormai un ambasciatore di questo festival ovunque nel mondo. Perché ti piace tanto il festival Ischia? Ti sei un ambasciatore del mondo. Quindi, mi perdoni, innanzitutto l'isola è strepitosa, poi incontra belle persone. È vero. No, è un festival particolarmente bellissimo perché i filmatori, Oliver Stone, Stephen Frears, bellissime actresses, che tutti ci sono stati sentiti e discutiti. È vero. Per più di persone. Più di persone. Ho capito. Quindi, praticamente, dice Terry Gilliam che ogni volta si ha modo di incontrare tantissimi personaggi, si ha modo di discutere in maniera molto semplice, anche di disporre i propri progetti al collega e magari di realizzarli a breve con un'idea che viene fuori. Oggi si è parlato di come trasformare idee locali nel cinema globale, il World Script Market a cui hanno preso parte tantissimi players, come li chiamano a Hollywood. Cosa è venuto fuori da questo dibattito, Gilliam? Cosa è venuto da questo dibattito oggi? Penso che l'importante è che abbiamo aprendo di dire le storie vere.